Ehi Valeria, Francesco, ma scusa, filma tutti e non noi, dai che siamo l'accobbiata storica, vieni qui, siamo la rappresentanza di Cupero originale, ecco lei solda e si vede, ho una un bel compagno subito al cilindro da fare, parlate però, sempre parliamo, il meglio discusa, qualsiasi cosa, bella festa, eh sì, oh Francesco, dirlo tu quel commento, scusa, eh. Grazie.